salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ci troviamo a borghetto un piccolo borgo a valeggio sul mincio è uno dei borghi più belli d'italia veramente spettacolare perché tutto è immerso nell'acqua quindi è un'ambientazione spettacolare e qua ragazzi volerà dji mavic air 2 perché secondo me è il drone ideale per una location del genere giornata pazzesca solo incredibile quindi adesso vi porto un po sul mincio che diciamo la ciclabile che ci ha portati fino a qua a borghetto sul mincio poi entreremo a borghetto con il dji om4 e infine ragazzi voleremo con dji mavic air 2 quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e iniziamo questa nuova avventura a borghetto a valeggio sul mincio a borghetto a valeggio sul mincio a borghetto a valeggio sul mincio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti